Partita la prima battaglia di 40.000 punti Alla destra del gruppo in questo momento la Zara Isola, la posta di Portica Caruschese Siamo al passaggio meno 24, la Zara sul prossimo traguardo sentiremo suonare la campana di meno 23 a denunciare i punti di meno 22 Ed ecco arrivare a puntuale la campana di meno 23, prendi i punti in radio sul prossimo traguardo Cercare la conquista di questi primi punti 297, 29 Quasi 30 punti assegnati Sarà campati il meno 21 La passaggio alla collettiva puntuale, i punti di meno 30 sul prossimo passaggio Siamo ai punti 90 50 50 152 Questi punti assegnati sul nuovo passaggio 5 53 152 No, rettifichiamo Segnate il primo e hanno i punti sull'ultimo passaggio Entrando sulla campana di meno 19 Sarà il punto di meno 18 sul prossimo passaggio Nel primo passaggio Nel primo passaggio Nel primo passaggio in questo momento Condurre 294 7 Siamo al passaggio Siamo al passaggio di meno 16 Siamo al passaggio di meno 16 Siamo aES Segnate il secondo passaggio Nel primo passaggio Nel primo passaggio Aspetta il punto di meno Nel primo passaggio Nel primo passaggio Nel primo passaggio puntuale mentre con un giro per la preianza che ha mandato la pietra di casa preianza per il busco passano in questo momento vediamo se sono sull'ultima curva che porterà i punti di livello 14 100 52 200 94 tra pochi stenti il passaggio di meno 13 e sarà nel posto di questo giro che superremo la metà gara primi 2500 metri andati siamo al punto 12 avveniamo il 4 finish 243 247 i punti assegnati sull'ultimo passaggio suona la campagna unici sono le due compagne di squadra della Cantù 66 283 e hanno preso qualche tempo di vantaggio sul nostro gruppo le due atlete banturine siamo alla campagna di meno 9 al termine si dà il cambio da testo di legare le due atlete mentre il gruppo dentro riposa e lascia l'azione da domani 223 66 c'era la medica mi cercano sul prossimo passaggio a campagna di meno se non giro la termina mentre il gruppo per termino aumenta il ritmo suona la campagna sempre 5306 e il primo riposo del gruppo vediamo la stagione 53 106 campagna di meno 5 che scuola parla di l'applicazione in gara 30 numero 106 la l'opera di questo è con 2 senza seguita la paura mese ma sopra viene la l'opera della brillanza 149 106 Spiro che tenta uno a lungo, passa velocissima per la campagna di una terra, un altro giro per l'escelo è un po' da casa e due punti della prima posizione. Arrivano, velocissima per la terra del nostro e Cassano, 247 e sarà la campana dell'ultimo giro sul prossimo passaggio. Arrivano, velocissima per la terra, un altro giro per l'ultimo giro sul prossimo passaggio. Arrivano, velocissima per la terra, un altro giro per l'ultimo 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 giro. Partita anche questa seconda caveria. Partenza già, 25 giro per l'ultimo giro per l'ultimo giro. La città è la città di Cassano e il costo unico a fondo di lungo ma si tratta dei primi assistamenti. Dovremo dire grazie alla campana dell'ultimo giro per l'ultimo giro. Suona la campana per la prima volta e saranno i primi assistenti. e la campana per l'ultimo giro sul prossimo passaggio. 55.206 suona la grappana di 9.21 viene morita l'atleta numero 246 e intanto l'atleta di casa in questo momento ha condurre passiamo ai punti di 9.20 3.246 il gruppo si è fermato ha fatto spazio il gruppo di cliente che passano con romaggia e lontaggio sulla campana di 9.19 saranno punti di 9.18 passati 3.246 154 la polita siamo al passato 2017 scuola la campana all'anunciare il pubblico di Mastecchi e sono sempre le due atlete Dominio Agnese del Musco e Clare di Sala della Inlanda nel 2017 in questo momento con due solitarie a Bolle mezzo giro di Mastra di Sola questo gruppo 3.246 i due atleti passano il turno le prime 11 metri alle materie mentre c'è un tentativo e la partecipazione sto lontano di recuperare la testa della gara la cultura sempre la intercessante solamente il musco siamo al 1.14 11, 2, 4, 6, 3. Mentre il gruppo si sta riavvicinando alla fugitive, Cardano le va ad avviarciare in questo istante quando suona la campagna di Nema 13. Ma il gruppo di Nema 13 è sempre presente, Tempere da lungo a migliorate, se ci troviamo il gruppo di Nema 12, 2, 5, 6, 65, grazie, il gruppo di Nema 13 è passato. Siamo alla campagna di Nema 13. E' ancora prima di Nema 13. Il gruppo di Nema 13 è il gruppo di Nema 13. E' ancora prima di Nema 13. la campagna di Nema 13. Il gruppo di Nema 13 è il gruppo di Nema 13. È la campagna di Nema 13. Grazie 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 Vai Cicchi Vai Cicchi Vai Cicchi Passare il numero 4 206 Vai Cicchi Vai Cicchi Sì Vai Cicchi Vai Cicchi Vai Cicchi Vai Cicchi E l'ultima campana di questa settimana è Vai Cicchi Vai Cicchi Vai Cicchi Vai Cicchi Vai Cicchi Vai Cicchi Ci siamo ai tutti i due Tre Due Sì, 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 sì. Monti, Laura, passato su un'altra guardia, 23 tra 200 cento, se viene tra la tente di questa, senti male? Non vengo più a vedere.